siamo alla periferia sud di livorno a pochi centinaia di metri da casa mia questa è villa serena è una struttura ospedaliera per anziani per coloro che hanno bisogno dei problemi di deambulazione eccetera è un gioiello un gioiello vero e proprio perché questa non è stata non è una struttura riadattata rifatta eccetera è creata con tutte le necessità e quindi tutti con gli accorgimenti necessari a che coloro i quali siano vengano qua possano godere anche in anziana età in vecchiaia di una serenità più unica che rara da che villa serena meraviglioso il mare lo vedete che c'è una recensione chiaramente spettacolo unico meraviglioso un'ultima zoomata arrivederci e grazie e sulla strada che va al collo di montenero e comunque